Yahweh disse a Mosè, ordina ai figli di Israele e di loro, avrete cura di presentarmi al tempo stabilito le offerte a me dovute e il mio alimento, Dio spirituale, sotto forma di sacrificio consumato col fuoco in profumo soave che mi placa. Se l'offerta è un olocausto di bovini, sia maschio senza difetto, lo offra all'ingresso della tenda del convegno perché sia gradito alla presenza del Signore. In altro passo lui di fatti dice non offrite sacrifici in aperta campagna perché lì lui non c'è e quindi non se lo può godere.